Buon salvone appassionati di Football Manager, oggi vi porto un estratto della chiacchierata che abbiamo fatto sulla piattaforma viola, canale Lucullus Games, con il capo della ricerca italiana Alberto Scotta alias Panoz, che si occupa anche di fare le schede dei giocatori, di coordinare tutti quelli che le faranno per le varie divisioni, per il calcio femminile e ovviamente va anche a intrecciare i rapporti con le squadre per recuperare le informazioni da mettere nel gioco per quanto riguarda l'Italia. Ci sarà anche a video Vince, non solo il creatore della Vince Kid, ma appunto anche il mio moderatore, sempre sul canale Viola. Potete trovare lì ovviamente tutta l'intervista estesa, la chiacchierata, ma partiamo. Oggi sono qua, grazie all'invito di Ale, perché vorrei raccontare un po' quello che si può raccontare dello status di Football Manager 2025, perché si sono dette tante cose e vorrei tranquillizzare un po' la platea di fan. Però non abbiamo visto né un trailer con una maglietta, né lo stadio nuovo che dovrebbe essere... Perché? Perché? Questo lo so, allora questo l'ho chiesto, perché nessuno era così soddisfatto di quello che poteva essere mostrato. E quindi volevano mostrare qualcosa che non fosse fake, ma che fosse funzionante bello. Quindi non vogliono far vedere una roba montata, tant'è che anche, e questo vi do un'informazione, i due o tre screenshot che sono usciti, non dovevano uscire, perché erano screenshot che hanno dato a Steam in tempi precedenti, perché gliel'hanno chiesti, e sono usciti su Steam, ma non sono usciti da Football Manager, perché loro di quegli screenshot non erano affatto convinti. Allora, io penso, come possibile ritardo, c'è una bellissima intervista su Aerogamer in inglese, dove Miles viene intervistato, e lui dice, FM25 non sarà FM24 più qualcosa, ma sarà un'altra cosa, all'inizio di una nuova era. E a un certo punto parla proprio dei possibili ritardi, perché viene fatta appunto a settembre, e cita il fatto che alcune cose non gli piacevano, quindi le hanno ripensate, quindi può darsi che forse questo eccesso di amore, di voglia, di stupire magari, di far bene con il 25, li abbia portati a ricontriare cose che forse poi li hanno spostati fuori tempo massimo, e quindi poi non sono riusciti magari a rispettare questa tempistica, può essere? Sì, assolutamente sì, conosci Miles, io non so se tu hai avuto la fortuna di conoscerlo dal vivo, io lo conosco ormai da tantissimi anni, penso, da quello che mi avevano detto, dovevi esserci anche tu un anno e mezzo fa a Londra, in quel fantastico meeting dove ci hanno presentato a tutti, diciamo, gli esponenti delle varie streamer più influenti nei vari paesi, è stata una giornata bellissima a Londra, a parte la visita degli studi, e lì Miles ci ha parlato, ci ha detto in anteprima il fatto che avevano pensato, ci ha stupito un po' dicendo guardate che è l'ultimo FM questo, e noi come? No, perché di qua voltiamo pagina, andiamo in Unity e ci ha raccontato in anteprima, poi due o tre giorni dopo è uscito il blog, dove hanno iniziato a parlare, e ci ha presentato anche le difficoltà, ma loro ovviamente mancavano un anno e mezzo, erano molto fiduciosi, quindi loro in teoria erano in pari, però non ce l'hanno. Questo qua, secondo te, sempre se magari hai captato qualcosa, potrebbe influenzare anche sull'uscita del 26, o io penso di no, nel senso per me il periodo migliore è settembre-ottobre, quindi già uscire a novembre per me è esagerato, se dovessero uscire col 26 a gennaio per recuperare un po' a dicembre e a gennaio per recuperare insomma il fatto che è uscito il 25 così tardi, sarebbe follia secondo me, quindi possiamo dire che non è fattibile pensare a una roba del genere. Non è nel loro interesse, cioè, allora, così racconto un attimo la questione date, perché la gente dice, ma caspita, erano pronti per uscire il 26, escono a marzo, e questo secondo me è un ragionamento che ci sta, perché è ovvio, dici, ma caspita, sono tre mesi e mezzo che ballano, ma perché? Ma per cosa, cioè, cosa stiamo parlando? Allora, vi racconto il perché. Perché? Perché uscire a dicembre, loro hanno ancora provato a vedere se arrivavano intorno del 10-15 dicembre, ma erano troppo stretti. A quel punto hanno detto, saltiamo Natale, capite che Natale è il momento migliore per vendere prodotti, no? E quindi loro rinunciano a questa cosa. Allora, vai a gennaio dove non compra nessuno, a gennaio non escono prodotti perché la gente ha speso tutto a Natale, a febbraio c'è il problema grosso del calcio mercato, se voi pensate, le patch sono sempre uscite a metà marzo, perché? Perché noi ci mettiamo a rilavorare al database e usciamo, diciamo, finiamo di lavorarci al 5-10 di febbraio, facendo tutti i trasferimenti e riposizionando i valori dei giocatori. Poi loro devono testare che tutto funzioni, perché hanno un tot di giorni, di settimane per farlo. Quando sono convinti, poi c'è tutta la questione della Cina, eccetera, eccetera, ma facciamo le cose normali. Quando sono convinti del database escono con la patch, che è tendenzialmente i primi di mese. Con cosa esco a febbraio? Con il database vecchio, cioè di inizio anno, con quello che ha posto, cioè nuovo, ma non è ancora funzionante? Allora, a questo punto hanno detto, facciamo che arrivare a marzo, così valutiamo. Partiamo da quello che abbiamo detto che facciamo. Se poi ci resta del tempo, faremo, aggiungeremo ancora delle cose, non necessariamente le nazionali, che è un discorso troppo complesso da aggiungere e fare meglio. Ma se riusciamo a fare qualcosa di più, tanto meglio. E quindi andiamo a marzo. Ma questo non impatta per un momento la questione del 26. Se posso, Ale, non so se posso iniziare adesso a parlare della questione dell'update, sì, update, no. Cioè la problematica enorme è quella delle licenze, che è una problematica che viene troppo spesso sottovalutata. Ed è, io lo dico sinceramente, una merda questo mondo delle licenze. Perché ognuno, e ogni realtà, che siano leghe, federazioni, calciatori, squadre, vuole lucrare su questa cosa. Ma se io, ditta, che ho firmato un contratto con te, dicendo che in FM24 io mettevo questa cosa qua, questo tuo nome, e ho il contratto fino a quell'anno lì, poi arriva l'altro, la Konami da una parte, l'Intendo dice questo, questo dice l'altro, è una giungla questa cosa qua. Le nostre deadline come ricercatori sono continuate a rimanere le stesse fino a una settimana fa. Proprio perché, fino a quando non c'è stato questo annuncio, proprio perché noi abbiamo continuato a lavorare come se l'update potesse uscire. Ma loro hanno provato a smarcarsi questa questione delle licenze, alla fine hanno visto che c'erano troppe cose, dovevano toglierle da una parte, tra l'altro c'è la licenza Premier League che esce con il 25, non la metti, non la metti, insomma, è un casino, e hanno deciso, sai che c'è, è meglio fermare. Hai visto qualcosina di grafico, tu? Solo sin no. Io ti dico questo, hai fatto male a non venire a Londra. Il mobile verrà fatto con il motore di gioco vecchio, non con quello nuovo. Questo l'ha detto sempre Miles in quell'intervista, diciamo che ha detto una, raccontava, che fino al 2012 ci stavano 10 milioni di copie che giravano del gioco, ma 9 milioni erano piratate. E lui appunto per questo si è buttato sui servizi in abbonamento. E mi piace il fatto che lui racconta che quando era piccolo ci stava questo Spectrum, questo computer che funzionava a cassette, dove ci stava uno dei suoi amici che comprava a turno un gioco e poi lo copiavano per averlo poi tutti quanti, no? E quindi lui ha voluto fare per questo il servizio in abbonamento. E proprio in questo modo sono passati da un milione a undici milioni di giocatori. Sono tutti giocatori paganti? No, perché arrivano anche dai servizi in abbonamento. Però non avrebbero comunque potuto convertire la stragrande maggioranza di questi giocatori se avessero deciso di venderglielo il gioco. Però intanto lo conoscono, arrivano appunto a provarlo su Netflix, magari anche senza aver mai sentito nominare Football Manager, ma soprattutto Netflix gli dà una cifra che magari è anche più bassa di quella che avrebbero potuto ottenere se l'avessero venduto a parte, ma intanto quella cifra è proprio quella necessaria a svilupparlo. Quindi loro da un punto di vista di sviluppo sono a posto perché quello che gli serviva l'hanno incassato. Dall'altro sperano che in questo modo il gioco venga conosciuto più facilmente. E come ci dice sempre nell'intervista Sono Gamer Smiles, effettivamente comunque la curva di acquisti sta aumentando. E sono convinti appunto che questo è proprio dovuto a questa pubblicità che si fanno su questi servizi in abbonamento tipo Netflix Games. Dopodiché si passa a collegare l'interfaccia tra virgolette consolosa e la paura che poi il gioco possa essere più semplice. Sempre partendo comunque dall'intervista di Miles su AeroGamer scopriamo che in realtà la Sports Interactive aveva proprio in mente già quest'anno di creare queste card, queste tile, questa interfaccia anche sulla versione mobile. Poi chiaramente taglia qua, taglia là, per questione anche di tempo non sono riusciti a convertirla anche in tempo su mobile perché Unity sarà proprio a quello, no? Per metterti anche una conversione più rapida, però troppi problemi, quindi quest'anno non ce l'hanno fatta, ma in futuro sì, sarà proprio quello il discorso. Tu avrai proprio la stessa interfaccia su PC, su console e su mobile. Cioè molte persone hanno avuto paura che fosse più semplificato, ma da quell'intervista non mi sembra. Cioè nel senso lui parla di 500 schermate che riguardano FM25 e dice che a lui piace il fatto che le persone non devono arrivare subito a sapere le cose, però forse, penso io, quell'interfaccia riesce comunque a coinvolgerti di più anche se magari tu non conosci proprio il gioco. Cioè da un lato mi sembra che le tiles e le card possono andare incontro a più utenze differenti. Chi vuole approfondire approfondisce, chi non vuole approfondire non approfondisce, però il gioco riesce comunque a essere più intuitivo rispetto all'anno scorso, ma non più semplice. Nel senso, chi vuole comunque andare in profondità coprire le cose è più tardi. A me sembra questo, non mi sembra che dovrebbe essere più semplice. Hai colto esattamente il senso e quindi noi viviamo in un mondo reale che nella nostra realtà è quello dei addicted fan che sappiamo tutto e facciamo ma FM se lo comprano un sacco di persone che se lo installano e poi devono giocarci ma non ci hanno mai provato e si trovano una roba lì con 180.000 news, 42 cose, cliccano, non sanno più da che parte fare e probabilmente tu no perché vedo che fai contenuti su tutto ma anche chi ci gioca tanto ma non così a fondo magari certe videate manco le scopre ancora adesso cioè quella delle finanze della divisione dei costi negli anni futuri io l'ho scoperta l'altro giorno per dirti. Unity è sembrato quasi come se abbiamo messo la grafica così arriviamo alle percepci. No, è proprio il loro modo di lavorare che sarà completamente diverso più snello senza quel motore e tutta la parte e tutta la parte di videate cioè Football Manager è il motore del gioco che sarà rifatto Unity va benissimo ok sarà più bello sarà più sfruido tutto quello che volete il grosso del lavoro è prendere tutte le schermate di Football Manager oggi e riscriverle con l'idea da zero di una cosa nuova da zero mettendo le cose perché funzionino meglio che siano più efficienti questo secondo me è un messaggio che non è arrivato non è arrivato la parte finale dell'intervista su Eurogamer poi continueremo appunto con Alberto Scott alias Panos dicevo su Eurogamer viene chiesto a Miles perché non utilizzi l'intelligenza artificiale per valere un po' queste conferenze stampa che sono sempre uguali e Miles dice una cosa di cui sento davvero poco parlare cioè al momento l'intelligenza artificiale generativa non è così potente ed efficace come si crede magari in un futuro però ha detto Miles quando si evolverà comunque questa intelligenza artificiale la andranno a utilizzare in maniera etica chi se lo compra a marzo il gioco dopo sei mesi perché esce poi il 26 e soprattutto il prezzo dovrebbe essere più basso perché uscirà troppo tardi io dico ho detto personalmente no a entrambe perché sono sei mesi sì è vero ma sono sei mesi che ti possono garantire mille ore non è un action che tu paghi anche di più ma sono 15-20 ore al massimo di gioco e soprattutto non puoi mettere un prezzo più basso secondo me perché hai fatto dei pre-order che non hai cancellato hai detto alla gente se vuoi puoi chiedere il rimborso ma non l'hai cancellato c'è una persona che spede 53 euro oggi e poi tu glielo metti a 45 a quella tu come glielo giustifichi che nel frattempo non ha neanche mai avuto il gioco per poterci giocare che poi il prezzo è cambiato così ma li ha drasti come farebbe a tornare indietro i soldi insomma questo qua è follia al massimo potrebbe fare un buono per il 26 ci credo poco tu cosa ne pensi è la domanda più grossa che ho letto cioè se il gioco non lo volete comprare è legittimo e io lo capisco e uno dice ma sai che c'è aspetto il 26 io vi capisco ma perché dovete chiedere il gioco non esca perché esce col 26 o debba essere a pezzo di troppo perché di nuovo noi siamo in un mondo che dove sappiamo tutto ci diciamo tutto e se c'è un bug viene fuori ci sono un sacco di utenti prendono il gioco e giocano e quindi magari sono soddisfatti anche di giocare un gioco un po' buggato in quell'intervista di Eurogamer si parlava di licenze ulteriore rispetto alla Premier League lui c'è c'è tutto un racconto carino è stato vent'anni per prendere questa licenza a un certo punto lo chiamano a telefono e gli fanno Miles allora sta licenza la vorresti fa e lui dice questa è la mia cifra non penso dieci volte tanto ma al di là di questa di questa gag che racconta sulla Premier League lui ha parlato di altre licenze che sicuramente ci sono ma che non hanno detto quali sono c'è la lingua araba dentro le lingue chiaramente che sono portate su Steam quindi io me ne sono accorto il primo giorno questa cosa qua non quadra ci sarà la Saudi League come probabilmente tutti quanti pensano tu sei qualcosa ci sarà qualche altro campionato è possibile pensare anche se non puoi dire il nome di qualche altro campionato rispetto a quelli che già abbiamo io so che c'è una licenza una nuova almeno una nuova licenza che mi hanno confermato che non c'era prima che poi sia una licenza di un campionato nuovo o un'ufficialità di una di quelle che ci sono non ve lo posso dire questo lo so so che ci sono delle nuove quindi a ragione Miles è vero ci sono altre licenze però di più non so calcio femminile quante persone ci hanno lavorato in Italia? Allora il gruppo di ricerca diciamo sei o sette più o meno Serie A e Serie B femminile ci saranno quindi sul FMI25? Allora noi abbiamo ricercato entrambe quindi i dati ci sono e ci sarà anche una sorpresa di una persona di una rana giocatrice che non gioca nei Serie A nei Serie B ci abbiamo tenuto a farlo a noi c'era stato chiesto espressione la Serie A però abbiamo voluto arrivare anche alla Serie B ci sono qualità in più quest'anno nelle schede? Nelle schede no però potrebbe esserci una bella sorpresa Pia Dinamico? Non posso dirvi che cos'è però ti dico che quando l'ho vista mi ha gasato ma è nascosta come qualità o visibile? No io parlo proprio in assoluto del cioè potrebbe anche non essere proprio una qualità però fa parte del dell'ambaradano diciamo che chi ama la parte cioè dividiamo in due la parte più trasferimenti gestionale eccetera eccetera è la parte tattica se state più da una parte o dall'altra quella parte lì cioè ti fa già venire in mente allora io farei però però bello modalità presidente direttore sportivo no basta ho detto troppo tu ti sei preso la visita con Luca quest'anno anche se non è proprio 180 dpa come qualche anno fa però dico qualcuno che avete non azzeccato qualcuno che abbiamo non azzeccato degli anni passati ormai si può dire ormai no 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 ma guarda io sono andato allora l'Italia ha un grosso problema che rispetto alle altre nazioni il giovane forte difficilmente diventa forte prima dei 23 24 anni e quindi ce ne perdiamo adesso ti dico Riccardi per dirti un giocatore quello si è proprio perso della Roma ora gioco alla Latina si è un po' perso però è difficile avere i giocatori che invece giocano in altri campionati dove escono adesso la Juve sta facendo un percorso simile cioè di prendere comunque i giocatori e farli giocare anche se hanno 19-20 anni ed è una delle poche squadre che fa una cosa del genere ma guardate per esempio l'Inter è una squadra che non fa quasi mai giocare ha comprato Palacios che era un possibile fenomeno ma non ha fatto un minuto di gioco quindi in Italia fatichiamo a far giocare questi giocatori e poi magari il look del caso fa bene a Pisa poi gira un po' adesso sta venendo fuori certo il look che avevamo noi quell'anno laggiù l'ho intervistato io diventava fenomeno Real Madrid e tutto un po' però comunque è diventato un giocatore che può andare in nazionale quando le persone vestono la maglia nazionale per noi è fatta Alla fine qual è il giusto compromesso nel cercare di non fare quel giocatore magari non troppo forte oppure non troppo scarso insomma il giusto equilibrio quello che che succede è come come agiamo ci siamo dati una regola di anche se se qualcuno vede il giovane del Modena che è fortissimo cerchiamo di non metterlo così forte come adesso ti faccio l'esempio di Bangula sì secondo me è un buon prospetto ma non sarà mai chissà che cosa no? magari c'è un giocatore veramente del Modena che è un prospetto migliore di Bangula però gioca ancora nel Modena è l'olandese dell'altra volta che Bangula a massimo è uno Smonoski vabbè poi vediamo no ma io glielo auguro a Bangula però ti dico io avevo ho ancora dei dubbi anche su Ildis per esempio cioè quale sarà sicuramente lo faremo forte secondo me sono una forte di Miletti di qualche anno fa no beh nettamente più forte di Miletti ci sono dei giocatori che il gioco in qualche maniera delle annate li fa diventare fenomeni cioè il Miletti hai ragione era troppo fuori quel Miletti lì ci sta un numero massimo di World of Kids che potete mettere in una squadra o per un paese? sì ci sono delle linee guida generali ma non c'è una linea guida che dice l'Italia può avere solo 3 meno 95 10 meno 9 e cose di questo genere ok però siamo abbastanza professionisti da guardare gli altri e farlo di conseguenza l'unica volta che era successo me lo ricorderò sempre è quando c'erano 3 meno 10 nel database uno non me lo ricordo uno era Balanta e l'altro era Pogba e Pogba l'avevo fatto io quindi niente meno 10 a Camarda è ufficiale aspetta no 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 si parlava è passato questo Camarda ci sarà nel gioco e sicuramente sarà uno dei più alti in potenziale quindi 190 massimo se non è meno 10 sarà 190 massimo no 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 metteremo metteremo un negativo no ti posso garantire che mettiamo un negativo poi a oggi non è ancora deciso se sarà meno 10 meno 9 meno 95 però sicuramente un negativo alto sarà più alto di 150 180 per forza perché quello era Miretti Camarda penso che sarà più alto non faccio la ricerca dicendo no siccome Miretti ho fatto così no la facciamo ogni anno quello che e ci confrontiamo siamo un gruppo di persone sicuramente Camarda vi posso dire sarà uno dei top 5 di potential ability questo questo lo posso garantire ci sono alcuni dei vostri elementi dello staff di ricerca che sono finiti in una squadra di calcio sì allora anche in quella italiana qualcuno addirittura all'allenatore sta iniziando dove sì a Bra a Bra adesso non so se Bra sia Serie D o eccellenza quest'anno sinceramente poi ci sono persone che collaborano invece con le squadre come osservatori io l'ho sempre detto che questo è un trampolino per me lo è stato io grazie a Football Manager ho lavorato per 20 anni in Delta 3 perché lavoravo in Football Manager quindi è uno stage è un qualcosa che tutti si mettono su LinkedIn ti metti in gioco anche nel sistema proprio di team building di lavorare in un team cercare di di trovare il modo di dire la tua negli anni siamo migliorati secondo me tantissimo dal punto di vista comunicazione e quindi siamo un team che non non si insulta non si si butta e c'è voluto tempo perché tante volte uno faceva una cosa e l'altro gli scriveva poi la cosa peggiore proprio in comunicazione ma perché hai messo 17 di dribbling a con sei sao sui nuovi ruoli visto che un po' l'hanno detto quelli di Sortio Zai un po' chiaramente si è visto anche negli screen che sono dati su Steam penso che si possa dire qualcosa su questi nuovi ruoli in possesso e non possesso e ci ho speso proprio una giornata intera per cercare di tradurre delle cose sui ruoli perché gli italiani che giocano Football Manager ne potessero beneficiare mi sono documentato tantissimo sulla tipologia basta sto cazzo di centro mediano metodista che nella vita nessuno sa cazzo voglia dire chi lo sa nella vita cos'è il carigliero via non ci sarà mai più il carigliero via fuori da allora il punto di vista ti ho risposto tanto dai lasciami dire due cose io sono stracontento di essere qua oggi perché per me è importante raccontare questa cioè vedo anche la chat molto tranquilla sono un sacco di persone che partecipano mi piace propositiva così siamo tutti qua che bramiamo di giocare a Football Manager e cerchiamo di avere un atteggiamento positivo perché comunque io ho visto la faccia delle persone con cui ho parlato dopo tutto questo ed è una faccia sorridente non una faccia come dire oh mio dio adesso dove andiamo fino no io penso che il problema sia stato nella comunicazione perché se loro avessero fatto un'altra comunicazione io penso che non ci sarebbero state tutte quelle critiche anche su su x su reddit e su altri social no perché forse potevano diciamo comunicarlo diversamente il problema se l'avessero comunicato sin dall'inizio magari ti avrebbero preparato se avessero spiegato magari quando veramente è complicato questo FM perché è veramente molto complicato nonostante ricordiamo il gioco è scritto sempre in C in C++ ed è sempre quello ma è tutto il resto che poi ci rimette intorno che chiaramente guarda Mais fa un'intervista che hai citato più volte l'hai letta tu sì capisci che è anche difficile perché l'informazione che è il gioco esce fra la leggono tutti ma chi è che va a approfondire e quindi non è facile sempre fare comunicazione così cioè Mais fa un'intervista secondo me bellissima e io l'avrei voluta video con l'intervista tra l'altro e non letta perché secondo me video è molto più importante eppure quindi oggi cerco di fare questo perché ci tengo a tutto questo gruppo di persone e io sono uno di loro cioè oltre ad essere responsabile sono il primo fan del gioco secondo te questa volta è cambiato il rapporto con l'online come chiede Sergio Mattarello o no cioè nonostante il mondiale che hanno fatto non cambierà diciamo la profondità dell'offerta online no non a breve di sicuro questa è una roba allora il concetto loro era è troppo difficile trovare il modo di giocare a FM metterti in una in un tempo breve in competizione con un altro alla pari mentre foot te lo fa fare e vince chi ha l'abilità di gestire il joystick migliore dell'altra con football manager le variabili sono troppe tant'è che io sono stra felice cioè mi è piaciuta tantissimo la formula che hanno fatto per il mondiale di football manager è un po' macchinosa replicarla un'altra volta ma perché football manager è macchinoso e quindi loro sono riusciti a fare una formula che secondo me ha premiato davvero tranne poi nella parte finale dove hanno fatto la draft e quindi se la sono giocata più o meno così però nella parte dei gironi sono stati fantastici perché hanno messo effettivamente a disposizione dei giocatori di football manager la possibilità di fare il manageriale e in tre anni comunque te la giochi meglio rispetto a giocartela a draft così quante volte però sì certo a me è piaciuta questa formula ripeto è come se giocassi veramente a FM non come sul Versus che effettivamente è una piccolissima parte di quello che può offrirti il gioco di essere bravo a comprare i giocatori di essere bravo a gestirli anche in momenti difficili però che appilla questa roba qua cioè quanti l'han guardata io guardavo ma c'erano di nuovo no non in tanti ecco perché quindi tu dici magari hanno sì gli è piaciuto magari al livello pubblico cioè hanno detto ok è andata bene però evidentemente non si sono ancora convinti a fare questo salto in avanti difficilmente avrà quello sbocco lì si sanno i dati di vendita cioè più o meno li hanno comunicati per paese ma giusto per avere tipo un quadro no? quanto siamo lontani non sei venuto a Londra e non si può sapere no perché quando ce l'hanno detto ci hanno detto che era un'informazione sensibile che non potevo ok perfetto niente non mi dispiace diciamo noi siamo nella top ten l'Italia nella top ten e non sappiamo se arriverà magari un editor di stadi con Unity potrebbe essere fatto allora credo di sì allora credo che ma questo è una mia personale opinione che non so nulla però Unity permetterà proprio di fare delle mod molto più avanzate rispetto a quelle che c'è adesso quindi è possibile che si lavori anche magari a livello di telecamere a livello di stadi si possano fare molte più cose però sono un ignorante totale è una capra io di Unity però mi dicono che si possa fare potrebbe anche accadere che magari il football manager riesca a fare una collaborazione con qualche club minore italiano sulla falsa riga di quella che ha fatto l'anno scorso con il Crowley Town che poi addirittura è arrivato è stato promosso poi a fine anno interessante questa risposta quindi sì magari nemmeno troppo minore minore saluto Panos l'abbiamo trattenuto anche più di quello che poteva stare quindi io lo ringrazio per questo speriamo di poter fare magari altre volte cose anche diverse magari allora uno ringrazio voi e mi è piaciuto un sacco il tipo di chiacchierata mi è piaciuta la chat e questo è un suggerimento che cerco di dare anche a voi va bene le critiche cerchiamo sempre di farle costruttive cerchiamo di capire un attimino il perché succede qualcosa cerchiamo di essere costruttivi e propositivi e positivi perché questo che ci aspetta per me che non l'ho ancora potuto toccare secondo me è un grande capitolo e non vedo l'ora di giocarci e non vedo l'ora